buongiorno a tutti allora si sono disputate le partite di champions le due semifinali e come avevo detto anche ai miei amici avevo detto attenzione perché non è nulla di scontato attenzione che il tottenham potrebbe andare a vincere eccetera eccetera infatti mi sono giocato anche l'1 a 2 risultato esatto e ho sbagliato perché è finita 2 a 3 però mi ero giocato l'1 a 2 non l'1 a 2 cioè o vince uno vince l'altro ma mi sono giocato proprio 1 a 2 come risultato esatto e purtroppo è finita 2 a 3 era pagato anche 10 perché mi sentivo che il tottenham sarebbe andato a vincere con con l'aias dopo il primo tempo ho detto va bene però nulla è scontato poi quando sono andati a 2 a 2 ho detto attenzione che questi mi segnano al novantesimo ho sbagliato di poco ho segnato al novantacinquesimo quindi tottenham in finale in maniera pazzesca ma la partita di ieri è stata veramente le coggi le comiche nella difesa del barcellona perché veramente l'apoteosi è stato il quarto gol che hanno preso calcio d'angolo difensori del 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 barcellona tutti in mezzo all'area che guardano l'infinito l'altro portiere e origi 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 come cavolo si chiama bello tranquillo tra loro e il portiere su calcio d'angolo quindi non c'è neanche fuori gioco perché partendo la palla dalla lunetta del corner tu non sei mai in fuori gioco anche se sei da solo d'anti al portiere il giocatore dell'aia se ne accorge stava andando via se ne accorta fatta battuto velocemente e origi bello tranquillo come una pasqua gliel'ha messa sotto l'incrocio 4 a 0 e barcellona a casa altra cosa che avevo detto agli amici avevo detto dipende tutto da messi e qualcuno oggi diceva ma messi non può fare tutto lui si gioca a calcio si gioca 11 contro 11 sì ma ieri messi qualcosa ha fatto ha avuto anche delle occasioni ma gli ha tirato addosso al portiere anche quando ha avuto l'occasione ma ricordato la stessa partita che ha fatto come con la roma roma barcellona che ha avuto le sue occasioni gli ha tirato sempre addosso al portiere e ieri uguale ha avuto qualche occasione gliel'ha tirata addosso al portiere o l'ha sbagliata è partito palla al piede ne ha saltati due o tre alla fine l'hanno steso a metà campo perché perché non c'è nessuno deve fare tutto da solo quindi è giusto che lui la differenza la fa se la squadra lo segue ma ieri il barcellona anzi l'altro ieri perché ora che vedrete questo video sarà giovedì l'altro ieri il barcellona ha dormito perché primo tempo no primo tempo allison ha dovuto fare dei bei salvataggi eccetera ma nella ripresa veramente c'è stata una sola squadra in campo e il barcellona ronfava beato tranquillo hanno preso forse la battuta di di klopp che diceva bastano anche cinque minuti per fare tre gol cioè non è che ci hanno messo molto è tra nel farne due e poi per fare il quarto perché poi dopo mancava ancora venti minuti sul 4 a 0 ma non è più successo nulla di 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 eclatante e stasera è stato clamoroso perché comunque l'aias è stato sfigatissimo perché era il vantaggio 2 a 0 primo tempo in cui il tottenham giocava mi sembrava l'inter titic 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 non trovavano sbocchi non trovavano nulla eccetera finisce il primo tempo sul 2 a 0 de light e ziek se non sbaglio nella ripresa pronti via dopo dieci minuti primo 2 a 1 dopo altri dieci minuti 2 a 2 dopo che il portiere ha fatto un miracolo che non sa neanche lui come ha fatto sull'oriente sull'oriente l'oriente perché cross basso l'oriente è davanti al portiere da solo fa un tocco che non si capisce il portiere la respinge poi riesce a rismanacciarla sta per prenderla il suo compagno cerca di prendere lui la palla e lui cosa fa anziché prendere il pallone prende il suo compagno vanno per terra tutte e due moral prende la palla supera riesce a superare in parte il difensore che gli addossa e con un tiro a giro la mette nell'angolino 2 a 2 poi l'Ajas ha preso un palo ha avuto due o tre contropiedi che dovevano essere delle teri e chiudere il discorso sul 3 a 2 non ci è riuscito poi il Tottenham ha preso una traversa con contemporaneo salvataggio sulla riga su calcio d'angolo se non sbaglio colpo di testa palla pallonetto sulla traversa rimbalza indietro il giocatore del Tottenham tira ma c'è un muro dell'Aja sulla riga che riesce ad allontanare la palla e poi sull'ultima azione o la penultima perché ormai eravamo al 49 al 54esimo e qualche cosa palla che arriva a Lucas Mora tiro a incrociare appena dentro l'area il difensore ci ha provato a mettere il piede ma l'ha toccata appena appena e parla che l'MLM si infila nell'angolino e ciao Ajax e quindi come continuavo a dire da un po' di mesi agli amici che dicevo attenzione che quest'anno facciamo due finali tutti inglesi attenzione figurati anche ieri sera quando anzi l'altra sera lunedì sera ero lì con gli amici a fare la partitina poker e gli dicevo scherzosamente guardate che passano il Tottenham e il Liverpool figurati il Liverpool come fa a passare ci hanno fuori state attenti che succede come con la Roma state attenti fanno 3 a 0 e poi vincono ai supplementari invece hanno vinto al novantesimo e ieri e scherzosamente gli dicevo attenzione che il Tottenham va a vincere con l'Ajso e figurati perché è il karma il karma e il parcondicio il Barcellona l'anno scorso ha perso 3 a 0 con la Roma si è fatta rimontare un 4 a 1 quindi per parcondicio è giusto che anche il Liverpool elimini la Roma per di più il Liverpool merita di rigiocare la finale visto che l'anno scorso l'ha persa per le papere del portiere prima cosa seconda cosa del karma l'Ajso cosa ha fatto? continua a perdere in casa e a guadagnarsi il passaggio del turno fuori casa questa volta invece è andata a vincere fuori casa l'andata poi che tra l'eliminazione del Barcellona e l'eliminazione dell'Ajso c'è un abisso perché da una parte c'è un Liverpool che ha fatto la sua bella partita e tutto quello che volete ma il Barcellona dormiva beato nel sonno del giusto stasera l'Ajso è stato sfigato perché comunque sei in vantaggio 2 a 0 hai le occasioni per fare il terzo e anche il quarto gol nella ripresa prendi due gol da Pollastri soprattutto il secondo dopo che il tuo portiere ti ha fatto un miracolo che non sa neanche lui come hai fatto gli dici no no prego cioè segnate è meglio perché è giusto così e poi è normale che o segna uno o segna l'altro segna uno o segna l'altro perché poi dopo non c'è stato un momento di tregua è Ajax che ripartiva come sa ripartire l'Ajax prendeva pali occasioni parate del portiere Tottenham che ripartiva a sua volta con un Sissoko che sembrava morto nel primo tempo non ce la faccio non ce la faccio poi nella ripresa si è ringalluzzito era lì che di prepotenza di cattività un Lucas Mora che stasera non lo so avrà preso il Gero Vital o quello che è perché veramente correva come una lippa velocissimo il primo gol che ha fatto è partito da metà campo mentre il suo compagno saltava il giocatore avversario lui è arrivato da dietro gli ha portato via la palla ha saltato l'uomo gliel'ha messo nell'angolino stasera veramente Lucas Mora mi spiace che non l'abbiamo preso noi anni fa Rosa anche lui ha fatto un partitone ma c'è un'altra partita che ha riconciliato veramente con il calcio io mi sono francamente divertito poi mi spiace per l'Aias ma volevo una finale tutta inglese voglio una finale tutta inglese anche dall'altra parte perché continuiamo a dire che in Inghilterra giocano il calcio migliore quindi è giusto che la finale di Champions e le finali di Europa League le giocano quelli che giocano il calcio migliore globalmente perché comunque l'Aias gioca un calcio che è da libidine doppia libidine doppia libidine coi fiocchi perché veramente è un piacere vederli giocare e infatti hanno perso proprio per quello perché non sanno gestire la partita loro giocano a calcio non stanno lì a pensare no sono 2-0 metto il difensore in più facciamo il catenaccio il catenaccio in Olanda non esiste infatti vedete anche dai risultati che vengono fuori proprio perché loro entrano in campo e giocano a calcio mi fai 6 gol io te ne ho fatti 3 non mi interessa non sto lì a mettermi in difesa perché ho perso una 0 con l'Aias come sono bravo e la gente però non ti sopporta più quindi detto questo ahimè l'Aias deve dire ciao 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 creme e e il Tottenham se ne va in finale con Liverpool e spero che riescano a recuperare Henry Kane perché stavo vedendo stasera stavo correndo come un matto a esultare anche lui quindi presumo che tra un mesetto sarà disponibile quasi sicuramente anche lui e ci sarà da divertirsi son Henry Kane da una parte Salah perché poi dopo anche per per il simpatico Klopp dover lasciare fuori uno come Origi che ieri ha fatto un partitone anzi l'altro ieri non sarà tanto semplice anche se vabbè Salah è Salah Salam e Lec però credo che ci sarà veramente da divertirsi mi spiace per chi sperava una finale cruiffiana e invece la finale è cruiffiana e non ce l'avete e mi spiace anche per quelli che dicevano eh ma l'Inter è uscita con una squadra ridicola la squadra ridicola è in finale di Champions l'altra squadra del girone era in semifinale di Champions il Napoli è stato eliminato dal Liverpool perché in finale di Champions nel girone nel girone poi lasciamo perdere i quarti gli ottavi perché sennò dovremmo dire anche che la Juventus è stata eliminata dall'Aias e anche lì quando la Juve fece 1 a 1 dissi attenzione che al ritorno non è una partita scontata e tutti giù a ridere figurati con l'Aias faranno I know my chicken conosco i miei polli poi magari sbaglierò i pronostici eccetera però conosco i miei polli soprattutto in Champions sulla carta domani quella squadra che rischia è l'Arsenal col Valencia perché non penso che il Chelsea possa farsi eliminare dall'Aintra Francoforte mentre invece attenzione che il Valencia potrebbe potrebbe perché magari l'Arsenal va a vincere come ha vinto Napoli e arrivederci grazie anche perché l'Arsenal non si mette a fare il calcetto champagne si mette a giocare bello serio schiscio perché Emery è un personaggino se non ero Emery l'allenatore dell'Arsenal spero di non dire una castroneria al massimo me lo dite che no non è Emery però mi sembra sia lui comunque io ho parlato già per 12 minuti e quasi 13 direi che stasera mi sono divertito veramente a vedere come mi sono divertito martedì sia martedì che mercoledì mi sono mi sono riconciliato nuovamente col calcio perché veramente ti diverti ti diverti la guardi con con gusto ok io vi saluto vi ringrazio fatemi sapere voi se vi aspettavate dei risultati del genere e ci vediamo ai prossimi video ciao ciao